Si chiama Patto per l'Autonomia e ha l'obiettivo di valorizzare la specialità della Regione. La lista si presenterà alle elezioni del 4 marzo e a quelle regionali di fine aprile. Patto per l'Autonomia nasce dall'iniziativa di un gruppo di cittadini e amministratori locali, uniti dalla convinzione che al di là delle opinioni politiche di ciascuno, sia necessario un impegno diretto in favore del territorio e delle comunità. La nostra istanza è quella di attraverso le elezioni, e attraverso le elezioni dei nostri rappresentanti riuscire a portare a Roma delle persone che possono esaltare quelle che sono le tipicità regionali, agevolare quelle che sono le richieste dei nostri territori, dei nostri territori frulani, dei territori giuliani, ognuno con le proprie specialità, Trieste col porto, Udine con le proprie caratteristiche, le proprie esigenze per la montagna, Trieste per quanto riguarda le istanze riguardanti il turismo, la scienza. Il nostro obiettivo è riuscire a ridare alla Regione quelle che sono le specificità stabilite addirittura della Costituzione, per la tutela delle minoranze linguistiche, per la tutela delle diversità culturali, e per la tutela soprattutto delle autonomie. Tra i vari aspetti, al centro del programma, la sanità, il lavoro, l'istruzione. La sanità eccelleva in Trieste Giulia, purtroppo negli ultimi anni ha avuto un crollo dal punto di vista della qualità, a discapito di quello che sono state delle uscite economiche molto rilevanti, così anche per il lavoro, così anche per l'istruzione. Il nostro obiettivo è riuscire a costruire una istruzione regionale, riacquisendo delle autonomie, ottenendo delle autonomie anche nella scelta della programmazione scolastica, dell'autonomia scolastica in decisione per quanto riguarda gli obiettivi anche della formazione delle persone, rispettando quelle che sono le tipicità culturali e linguistiche, soprattutto, della regione di Trieste.